Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale, oggi un nuovo video, nessun tutorial, voglio solo darvi qualche consiglio su metodi utili per il vostro studio. Sia per chi inizia da zero, sia comunque per chi già suona ma non ha mai seguito dei metodi didattici precisi, oggi vi consiglio 5 metodi che vi potranno aiutare. Primo metodo, ottimo metodo che vi aiuterà a conoscere e poter applicare tutti i rudimenti del rullante. Secondo metodo, allora una collana a cui io sono molto legato, sono partito studiando questi metodi e ad oggi sono quelli che propongo ai miei allievi. La collana pattern di Gary Cheffy, qui abbiamo sticking pattern. Questo metodo vi aiuterà nello sviluppo e il controllo di fraseggi con accenti, colpi singoli e colpi doppi. Diciamo che da questo metodo possono nascere idee che poi vi aiuteranno nel vostro fraseggio sullo strumento. Stessa collana è il technique pattern. Qui troverete tecnica per mani e piedi. Ci sono veramente un sacco di esercizi utili quindi ve lo consiglio tantissimo. Sempre della collana pattern, appunto vi ho detto è la mia preferita quindi non posso che consigliarvi altro. Time functioning pattern. Qui troverete degli esercizi per lavorare sulla vostra coordinazione, lavorerete su lo stile rock e jazz e in più troverete diversi fraseggi da applicare sul set. Dopo tutta questa tecnica, coordinazione, fraseggi, insomma tante cose utili appunto per migliorare la vostra tecnica, vi consiglio un metodo per applicare appunto quello che avete imparato. metodo italianissimo per applicare tutto questo. The drummer play along Cristiano Michalizzi. troverete 40 brani di diversi stili, del semplice stile rock, jazz, blues, insomma tante varie cose su cui lavorare. Partite anche qua dalle cose più semplici e poi vedrete che aiutandovi con i metodi che abbiamo precedentemente visto riuscirete col tempo a fare anche le cose un po' più difficilotte. Penso di avervi dato giusto qualche consiglio. Se poi volete approfondire appunto l'argomento o qualche metodo in particolare scrivetelo nei commenti e magari vi farò vedere anche alcuni esercizi che appunto il metodo propone. Non mi resta che salutarvi, buon divertimento e come sempre un buon groove. Alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie a tutti